Sono stanco, non ho voglia di studiare e mi devo fare la barba Ciao a tutti amici di youtube, bentornati alla vostra tia Oggi siamo ritornati qua in un vlog velocissimo perché poi devo ritornare a studiare Vi devo annunciare che sarò al Cartoon Mix 2015 Ci andrò con un mio amico, il Pennuto, che poi vi farò conoscere E nulla, vi farò vedere un altro video simile a quello che è uscito ieri Che sinceramente mi è piaciuto tantissimo Ringrazio ancora Teo e Federico per la loro compagnia, per la loro partecipazione Fatemi sapere voi se vi è piaciuto quel video là In questo periodo sono un pochino incasinato con la scuola Quindi se non vedete i video al di là di quello del Cartoon Mix Sapete perché Ci vediamo il più presto possibile Fate i bravi Bella